Deep underground, the Jelly Belly factory, Bebe is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've started a kid! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, inizia così la nostra canzone di oggi. C'è un confine sottile in noi che a volte sembra non finire mai. Tra il mondo chiuso dentro te e quello che tu dai, è un pugno dritto nello stomaco, un vetro rotto dalla fantasia, perché rinasce dalla cenere quel che non si è spento mai. Tu stringimi queste mani fredde per la lunga attesa, tienimi più vicino a te e scaldami tra quest'incoscienza e questa falsa resa. Lasciami lentamente e poi. Ecco appunto come inizia questo brano del 1989, una canzone italiana di una band italiana amatissima come i Mattia Bazar, di cui faceva parte anche, in questo caso, Antonella Ruggero. La canzone invece era inserita nell'album Red Corner. Si trattava del ventesimo 45 giri del gruppo, che andò piuttosto bene nel mercato italiano, tanto da posizionarsi al numero 14 della classifica dei singoli più venduti in Italia. Ed è importante anche e proprio perché è stato l'ultimo singolo firmato con i Mattia Bazar da Antonella Ruggero come cantante. Dell'artista sono note le capacità vocali, la sua estensione, ma anche la capacità di poter essere interprete di un repertorio veramente molto ampio, dalla lirica, come soprano leggero, al pop, alla musica leggera, senza escludere jazz, soul, tango, persino rock e appunto la musica corale. Con questo singolo dunque si chiudeva un capitolo, se non un'epoca, per i Mattia Bazar, perché la Ruggero è stata tra i fondatori della band nel 1975. Dal 1989 invece lascia la formazione e sette anni dopo, nel 1996, ecco che intraprende la carriera da solista. Lei, da genovese come la maggior parte degli altri membri iniziali del gruppo, dopo alcune esperienze nell'ambito grafico e creativo, come disegnatrice si era dedicata appunto al mondo della musica. E proprio a lei si deve anche il nome della formazione, perché l'anno prima del via all'attività del gruppo, lei aveva iniziato a cantare facendosi chiamare Mattia appunto, con uno pseudonimo e firmando un 45 giri, intitolato La strada del perdono. Il lato B si intitolava invece proprio Io Mattia. Ad affiancarla nella band ci saranno all'inizio Piero Cassano, alla voce tastiera, a cui subentreranno prima Mauro Sabbione e poi Sergio Cossu. E ancora ecco Aldo Stellita, al basso Giancarlo Golzi, alla batteria, e Carlo Marrale, alla voce chitarre. Come anticipato, dopo il nostro singolo di oggi, la Ruggero si prende un periodo di pausa, da piuttosto lungo, sette anni, poi torna sulle scene e lo fa aprendo il tour italiano di Sting. Nove anni dopo, stringimi, invece, partecipa al Festival di Sanremo, arrivando seconda, con amore lontanissimo. Ci tornerà anche l'anno dopo, su quel palco dell'Ariston, con Non ti dimentico, arrivando nuovamente seconda. Diciamo che poi negli anni ha cantato anche molto nel genere lirico, senza però disdegnare la musica leggera. Per esempio, il suo ultimo singolo è del 2019, si intitola Senza. L'ultimo album, invece, è una raccolta del 2012. Tornando alla band, è importante ricordare, prima di lasciarvi al nostro singolo protagonista di questo spazio oggi, che è stata una canzone presentata al Festival Bar e che ha avuto successo proprio in estate, diventando a suo modo un tormentone. Vendo instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try.